Care Castellane, cari Castellani, purtroppo vi devo comunicare che ben sei nostri concittadini positivi al coronavirus non ce l'hanno fatta. Alle loro famiglie va tutto il nostro cordoglio, la nostra vicinanza e dell'intera comunità castellana. Perdere il proprio caro in tali circostanze diventa ancora più drammatico se si pensa a tutte quelle ristrettezze comportamentali che le norme igienico-sanitarie così stringenti ci impongono, trasformando il lutto ancora più tragico e per certi aspetti spietato. Perfino da oggi la chiusura del cimitero va in questa direzione. Come avete potuto leggere dall'ultima circolare prefettizia siamo ben 44 persone contagiate, un dato troppo alto che ci impone ancora una volta più rispetto delle regole. Dobbiamo rimanere a casa. Capisco che siamo stanchi, capisco le belle passeggiate, ma dobbiamo resistere e resistere in casa. Abbiamo notizie di alcuni nostri concittadini positivi al coronavirus che sono fuori pericolo e potranno ritornare a casa aspettando ancora i tempi di quarantena oltre alla normale profilassi. Per tenervi aggiornati sulla situazione non date per certe le notizie, quelle che vengono chiamate in gergo le fake news, le notizie false, che appaiono numerose sui social network, ma consultate sempre le fonti ufficiali, dal sito istituzionale comune alla prefettura, ATS Valpadana, Regione Lombardia, Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questo comunicato l'amministrazione vuole ringraziare il SESAM per aver donato un respiratore all'ospedale di Asola e per aver stanziato un contributo significativo alle varie protezioni civili dei comuni in cui opera la società. Un grazie alla Steril Garda per aver offerto materiale sanitario e un grazie a tutte le nostre farmaciste e a tutti i nostri farmacisti per il loro straordinario lavoro. Castelgofredo, 20 marzo 2020, il Sindaco.